Il libro sarà in edicola il giorno 25, sabato, in tutta la Toscana e sarà gratuito con chi compra la Repubblica. Abbiamo pensato di fare questo libro perché volevamo uno sguardo più lungo, più ampio, rispetto al quotidiano su un fatto che ha toccato tutte le nostre vite, anche la società, i gangli dell'economia, piuttosto che della cultura, della sanità, insomma ha toccato tutti in maniera così profonda che ci sembrava giusto fare un lavoro più organico e chiamare anche ospiti, delle persone esperti, scienziati per fare degli interventi che ci facessero vedere sotto tanti punti di vista come sono stati questi giorni, queste settimane che abbiamo passato.